Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ambra Angiolini ha cominciato davvero molto presto, a prendere dimestichezza, con un mondo particolare come quello della televisione. È stato probabilmente anche questo aspetto a renderla così apprezzata da un pubblico, che ha riconosciuto in lei non soltanto un volto iconico, ma anche una presenza scenica importante. Proprio negli scorsi mesi, tra l'altro, Ambra si è ritrovata a doversi misurare con il mondo del gossip e tutto quello che si è scatenato in seguito alla separazione da ormai l'ex compagno Massimiliano Allegri. Con l'attuale allenatore della Juventus qualcosa è andato storto, e così la relazione tra di lui e la bella Ambra si è interrotta bruscamente. I due si sono rifatti una vita e le loro storie vanno avanti. Insomma, per Ambra è tempo di pensare ad altri problemi. Uno di questi è stato raccontato proprio dalla Angiolini ai microfoni di Vanity Fair. Riguarda un problema molto serio, che accomuna Ambra anche a tantissime altre persone, le crisi di panico. Così la Angiolini, proprio in questo senso, ha spiegato cosa accade quando lei prende l'aereo. In aereo do il meglio di me. Credo che prima o poi vincerò un Oscar per l'attacco di panico migliore nella storia degli attacchi di panico. Di solito abbraccio di Steward, le hostess. Faccio delle scene pazzesche durante, poi durante l'atterraggio chiedo perdono, ha spiegato Ambra.